Ciao a tutti ragazzi, bentornati su StarRatsTube, nuova reaction, è uscito qualche giorno fa in occasione appunto della presentazione della nuova PS5 che io non penso che comprerò a meno che non cali un po' di prezzo perché davvero no, per quanto sia bella, per quanto sia figa, perché l'ho vista ha un design futuristico pazzesco, capacità pazzesca e tutto quello che volete ma per adesso veramente è 500-600 euro, avendo comprato poi anche non da tantissimo, ma da un paio d'anni, la PS4 è un po' esagerato adesso proprio direi che, non so, adesso non è che uscirà subito nell'immediato però non penso di prenderla subito quando uscirà penso che aspetterò un po' di tempo e in occasione appunto della presentazione della PS5 sono stati presentati alcuni giochi che saranno disponibili appunto per questa nuova console ma che comunque, da quello che ho capito, usciranno comunque anche per PS4 perché non possono pretendere che la gente che ha la PS4 si vada a vendere un rene per giocare a questo gioco, insomma penso che comunque ci avranno, ci avranno anche pensato anche loro perché sennò si perdono comunque una buona fetta di marketing io sto parlando appunto, oggi ho deciso di fare la reaction del trailer di Resident Evil 8, ovvero Resident Evil Village infatti è uscito il trailer appunto perché sarà uno dei giochi appunto, penso di punta in occasione di questa PS5 e devo dire che ho visto qualche immagine in giro e ho un po' di perplessità vi dirò la verità, non il trailer non l'ho ancora visto, adesso lo guarderò qua insieme a voi anzi voi vedrete me che lo vedo, se volete comunque vedere il video che sto vedendo io vi lascio comunque sempre il link in descrizione così lo potrete vedere anche voi magari nei commenti potrete farvi sapere che cosa ne pensate Resident Evil è una delle mie saghe videoludiche, stasera non so parlare, preferite le ho giocati tutti, se andate anche sul mio canale infatti troverete il gameplay nelle play basta che andate nella sezione playlist, troverete sia il gameplay del remake del 2 e anche il gameplay appunto del 7 di cui appunto questo gioco dovrebbe avere ancora come protagonista Ethan, da quello che ho capito, è ancora in prima persona, questo mi è stato detto quindi adesso appunto guardiamo questo trailer e poi vi dirò appunto le mie impressioni in merito historic home to a close wow ambientazioni nevose boschesche sembra The Blair Witch Project a livello di grafica spettacolare, già vi dico questo ma è la villa dei Baker, no no, no, non è la villa dei Baker non riesco a capire chi parla però sembra stia raccolando una favola comunque su una bambina non penso sia Evelyn però anche perché è morta quindi ma è mia questa mi sembra la voce di Ethan perché l'ho sentita in italiano e in inglese oh mamma sei ancora in prima persona comunque wow sono un amico, sono amichevole non mi spara non mi spara oddio il vecetto, con la coppola siamo in Sicilia ragazzi comunque no, a livello di grafica è spettacolare ma cosa c'è? ma non sono, non sono zombie oddio che casi che l'hanno preso oh madonna che bordello è? allora, a livello visivo si può dire poco è spettacolare oddio cos'è sta cosa? ricorda un po' Outlast 2 donne con bambini eh, questi sembrano quelli del 4 ma le ambientazioni la scena ricorda un po' Resident Evil 4 c'è un bambino l'assembleo dell'ombrella animali morti come sempre oddio ma che è? quella strega no ma questi sembrano veramente sembra molto il 4 ma chi è? eh, c'è anche quello con gli occhiali e il cappello da cowboy oddio e chi è questo? Michael di Underworld? che casino non è che si capisca tanto Village Resident Evil 8 non si capisce tanto eh oddio Chris scusa Ethan ma oddio no va bene il 2020 allora allora un momento che devo riordinare le idee questo trailer è incasinato tanto non è che si capisca tantissimo sono un po' perplessa perché allora a livello grafico a livello di ambientazioni spettacolare come sempre ancora più spettacolare dell'ottavo che già graficamente era bellissimo però ho alcune perplessità perché mi sembra un po' una specie di coperta patchwork con alcune cose ispirate da Outlast 2 perché veramente la cosa del villaggio è un po' presa da Outlast 2 perché se avete giocato ad Outlast 2 saprete che Outlast 2 è stato ambientato tutto in un questo villaggio pieno zeppo di fanatici religiosi e sembra poi ci sono i lupi mannari c'è questo qua che sembra avete mai visto la saga di Underworld sembra Michael Michael Corvin di Under la saga di Underworld quindi non riesco a capire effettivamente Resident Evil ci sono gli zombie che cosa cosa vuol dire i lupi mannari poi ho letto che comunque ci saranno anche tante altre creature ma francamente ho un po' di perplessità su questa cosa ce le ho ma quello che mi ha lasciato basita è il finale con Chris che a quanto pare è entrato in casa di Ethan e ha freddato Mia con una con quattro colpi di pistola e non si capisce perché a parte il fatto che Chris Renfield caratterialmente questo non è da Chris Renfield perché lui a meno che non abbia la prova certa che Mia è un'arma biologica non l'avrebbe freddata così non topo tutto il casino che hanno fatto nel 7 per salvarla scusa non l'avevano mica se voi finite Resident Evil 7 e fate il finale buono il finale in cui salviamo Mia giustamente se ne sarebbero accorti prima se lei è un'arma biologica ecco ma non è un'azione da Chris non è un'azione da Chris uccidere una persona così a sangue freddo a meno che non abbia una prova specifica ma comunque non è da lui lui se è una persona infetta cercherebbe di salvarla come ha fatto come voleva fare con Pierce nel finale del 6 della sua storia intendo ecco devo dire che sono un po' perplessa vi dirò la verità mi aspettavo qualcosina di diverso intanto sono contenta che torni Ethan perché Ethan è un personaggio che mi è piaciuto molto in Resident Evil 7 ma è una cozzaglia di così tante cose che intanto poi ci sono anche tante cose prese dal 4 come appunto che anche il 4 era ambientato in un villaggio pieno zeppo di pazzi furiosi manovrati da un villain e poi dalla splaga c'era tutta una cosa della splaga tutto questo casino qui ed è un po' una coperta patchwork con tante cose che non lo so non lo so allora il trailer è bello mette abbastanza hype però lascia anche parecchio perplessa io sono perplessa quindi non so se lo prende no prendo o lo prendo e giocarlo lo giocherò però non lo so forse devo giocarci forse magari devo aspettare qualche altro trailer qualche altra notizia qualche altra cosa perché per adesso il mio verdetto riguardo a questo trailer è interessante mette curiosità ma lascia anche abbastanza perplessi perché Chris? perché non è da Chris Reinfeld Chris Reinfeld non le fa queste cose perché con tutto il casino fatto nel 7 vabbè speriamo magari poi quando giocherò al gioco avrò risposta a queste a tutte queste domande almeno speriamo bene questa reaction si conclude qui io spero che vi sia piaciuta vi ricordo che in descrizione appunto trovate il link del video che ho visto io e trovate anche il mio instagram che è il socio su cui sono più attiva venite a trovarmi seguitemi se avete voglia di mettermi qualche like mi fate tanto contenta iscrivetevi al canale blog se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche sui nuovi video e se questo vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima recensione alla prossima reaction ciao a tutti ma ma perché ma perché far tutto sto casino e ma Chris non le fa queste cose perché non le fa